Nessun problema ragazzi, qua è tutto sotto controllo, buon lunedì a tutti, è finita ieri la giornata di Serie A ovviamente ma oggi non parliamo di Serie A, parliamo di calcio mercato perché è stato appena ufficializzato Fernando Liorente Liorente è un nuovo calciatore del Napoli, sono contento, a dir la verità sono molto contento perché è un parametro zero è un parametro zero come si deve a dir la verità perché comunque non è scarsissimo Liorente, ci sta, è un ottimo calciatore ed è comunque un panchinaro. Liorente lo scorso anno è stato il panchinaro di Harry Kane al Tottenham quindi già questo fa pensare che comunque non sia uno scarto anche se comunque non è che segnava così tanti gol però non è uno scarto ovviamente. Ragazzi Liorente ha una sua età, ha giocato in Italia alla Juventus appunto ha la sua età però può farci sempre comodo perché sarà il rincalzo di Milik, la punta fisica e comunque quando Milik comunque avrà molti impegni ravvicinati tra Champions e campionato potremmo mettere magari in un Lecce, in un Verona Liorente. Allora Liorente arriva a parametro zero appunto non so quanto gli abbiano dato di stipendio però comunque alla fine c'è poco da dire sono contento, per ora il voto che ho dato al mercato del Napoli, per ora ormai è finito il mercato penso almeno che non arrivi un colpo in queste ultime dieci ore, il voto che ho dato al mercato del Napoli per me è un otto pieno o anzi può aumentare però rimane sempre su quest'otto per le false illusioni perché comunque i vari Ames, i Cardi sono stati illusioni che comunque ci hanno fatto sperare inutilmente anche se ragazzi non c'è da lamentarsi, il Napoli ha speso 100 milioni perché 36 e 42 per Manolas e Lozzano sono già 80 milioni, ci mettete una decina per Di Lorenzo, una decina per Elmas, arrivi a 100 quindi comunque ha speso tanto e comunque alla fine ha ceduto Unas ancora dobbiamo cedere addirittura, dobbiamo cedere Verdi, non so se va via, Isai quindi ragazzi per me il Napoli ha fatto un buon mercato ma rimane l'amaro in bocca per l'Ames o i Cardi che non sono arrivati però dai, sono contento così, buona fortuna Liorente, benvenuto al Napoli ragazzi spero che questo video sia piaciuto, cosa ne pensate Liorente? io vi saluto più o meno della scena super che tutto sotto controllo appena sveglio, bella